Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo nel nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Tirate tutti e vediamo com'è va. Boom! Numeroni! Il basso è un 14, Kaya 14, Armaios 15, Cosentino 16, Zephyro 17. Ok, tutti quanti quindi prendete 5 di gloria, Zephyro 10 punti di gloria e partiamo da giù. Kaya, col tuo 14 cosa fai? Ma ho libertà d'azione o devo per forza seguire? Perché allora lo scopo di Kaya è distruggere la maschera, cioè vorrei saltare addosso al tipo e strappargli la maschera. Allora, direi che in questa fase per prendere vantaggio potresti ad esempio incrinare la maschera, no? Ok. È comunque una narrazione che dobbiamo fare in tre fasi, quindi secondo me in questa fase il tuo vantaggio potrebbe essere incrinare le maschere e quindi incrinare il legame tra le due. Ok, allora farei quello, quindi bracciando la spada, con passi calzanti ma vicino e cerco di, anzi riesco a incrinare la maschera. Visto che però non sei colui che primeggia, riesci a farlo, riesci a condurre l'attacco, però nel momento in cui, dimmi come lo fai, dimmi innanzitutto è la maschera dell'uomo o del cinghiale? No, io pensavo dell'uomo in questo momento. Ok, perché appunto no, ci sono le due maschere gemelle, quindi volevo capire quale. Ok, lo sfidi in combattimento? Lui è ancora disarmato perché sta semplicemente guidando i suoi uomini dalle mura e tipo ad esempio tu salti l'altezza delle mura riuscendo a incrociarlo velocemente. Semplicemente, immagino che attacchi con la tua, con la spada che hai. Sì, e lo sfido anche dicendogli, da guerriero a guerriero, ti ricordo che, prima gli davo del lei ma adesso gli do del tu, ti ricordo il tuo animo da guerriero, vediamo se ne è rimasta ancora una parte e se sì dimostramelo in battaglia. Ok, è solamente il primo clash, quindi è l'inizio dello scontro. Immagino che tu tagli i tempi, salti sulle mura, gli cali addosso con la spada e pianti sulla maschera, praticamente spezzandola in diagonale. Nel momento in cui la tua spada resta, come dire, con la punta incastrata sulla maschera e non riesci ad affondare verso la sua fronte, lui vedi che la maschera ti stupisce in qualche modo perché la frattura si illumina di una luce bianco-azzurra e vedi che la crepa si richiude ricacciando in fuori la tua spada, perché la maschera comunque è intrisa di un potere divino e vedi che lui non accetta la sfida ma neanche la nega del tutto perché quello che lui fa è contrattaccare con un calcio che ti ributta giù dalle mura e vedi che a quel punto lui si ritira verso il castello. Riesci nella prova, riesci nel tuo attacco, ma non è questo che definirà il vantaggio sulla sfida. Armaios? Sono disorientato perché non so se mi ha contato il tratto che ho appena usato l'architetto. Fammi vedere. Il dato da 10 no, non lo vedo e non so perché. Cosa faccio? Cioè ho messo il nome troppo lungo. È un 6 più 6 più 3 del favore divino. Sì, ma dovrebbe esserci un di 10 che... Sì, sì, no, se ritiriamo un di 10 e se fa più di 6... Penso che sia già tirato da qualche parte, datemi solo un secondo. Magari non l'ha visualizzato, ma non so dove è finito. È quando il dado cade sotto il tavolo. Esattamente, il dado è finito sotto il tavolo. Ok, no, non è stato tirato nel foglio, quindi tira un di 10 tu e vediamo cosa... Cosa fai? Come faccio? Tiralo fuori dal foglio tranquillamente. Non è volo il di Google o se hai un di 10 fisico in mano. Ok. Cosa vuoi? Ok. Nilo apre il cassetto, cercano i dadi. No, aspetta, me lo sono fatto tirare a 4. Ok. Ok, quindi non era più alto, quindi rimane il... Buono, resta il 15. Vai, riesci, ma non è l'azione definitiva del vantaggio. Beh, in realtà, quello che io voglio fare, riesco a farlo. Dunque, essenzialmente, è la parte dell'asseggio dove dobbiamo spianarci la strada per effettivamente andare a prenderlo, questo usurpatore. Cioè, ho capito, qui guadagniamo un vantaggio o no? In questa fase. Qui, allora, chi eccelle nella prova ottiene un di 10 di vantaggio. Però, visto che voi riuscite, comunque portiamo avanti la narrazione. Quindi Kaya è riuscita a rompere la maschera, ma la maschera è infusa di una magia divina. Quindi l'attacco è riuscito, ma non sei riuscita a spezzarla. Se vuoi sfondare i portoni e entrare nel palazzo, sicuramente possiamo narrarla e portiamo avanti la scena nel combattere nei cortili e poi nel palazzo. In questo caso, dalla foresta, all'improvviso, si sente un rumore di marchi ingegni che si attivano dopo l'urlo di sfida di Kaya. E sono catapulte, sono marchi ingegni di assedio che sono controllati da chi siamo riusciti a reclutare per questa caccia. Ed effettivamente riusciamo a sfondare il portone e probabilmente c'è addirittura un incendio che distrae le truppe d'oro e questo ci permette di infiltrarci dentro alla città. Da quanto ho capito, l'attacco viene fatto addirittura in condizioni di luce, tipo, tra... Cos'è? Prima serata, da quanto ho capito, la caccia era di notte, giusto Zephyro? Yes. C'è nel sole, dunque c'è questo effetto di fuoco sull'orizzonte che confonde parecchio i difensori. Ti immagino a preparare nel pomeriggio, comunque organizzare le otri con la pece greca che poi vengono incendiate a intervalli mirati per distrarre le guardie e quando poi partono le, come direi, i dardi verso il portone principale sfondate. Assolutamente. Dunque, ovviamente, per dire l'aiuto dei miei compagni è che sfondano insieme a me e credo che il mio padre mi guardi con approvo, visto che utilizzo l'ingegno per sfondare. Ok. Cosentino, la tua parte in questo cozzo. Allora, Cosentino segue Armaios per i filtrati della città fino a raggiungere il punto vicino a Kaya in cui c'è Karos con l'obiettivo di parlargli e di urlargli la verità quando il doctor è venuto a scoprirlo. Cioè che Karos, ciò che non sai è che la vera visione di Isidora è che il cinghiale avrebbe ucciso Nassia. La bestia che tu domini avrebbe ucciso Nassia. Ucciderà Nassia, secondo la visione di Artemide. Non è questo quello che volevi. Non è questo il motivo per cui ti sei sacrificato. Riprendi in mano il tuo destino, riprendi in mano il favore di Artemide e unisciti alla taccia. Riprendi in mano l'onore di decidere come morire. E in questo vedi che riesci a fare breccia. Lui porta le mani dietro la maschera per toglierla e dice capisco la verità in quello che dici e quindi tutto quello che ho fatto è stato vano o addirittura contro ciò che io volevo. E questa maschera ne è la causa. Vedi che prova a strapparsela dal volto e nel momento in cui prova a strapparsela dal volto la maschera in qualche modo reagisce gli occhi diventano rossi talmente tanto da cominciare a illuminare l'intera maschera di fronte a lui e ti rendi conto del significato delle parole che lui aveva detto nella corte che lui e il cinghiale sono una cosa sola. Quando rialza lo sguardo ringhia verso di voi di una ferocia animale un ghigno che attende di gustare il sangue i denti quasi cresciuti all'interno della bocca a emulare le zanne e adesso vedi che è il cinghiale che si gira ripiegando verso le sale del trono dove vi invita a entrare ed è lui che segue. La danza sincrona che prima guidavano adesso è guidata dal cinghiale. Zephyro a te il vantaggio di questo clash di questo scontro? Ok c'è il caos dell'assedio che per un attimo prende la battaglia per un attimo tra le fiamme che si alzano nella notte e le truppe della città che immagino provino a fermarci. Lo scontro in parte fratricida crea troppo caos e persino la fedeltà degli uomini per un attimo viene messa ad una prova. Nassia nel non trovare per la casualità del campo di battaglia immediatamente il suo avversario sembra essere un po' smarrita e non saper più guidare i propri uomini quando mi avvicino a lei in mezzo al campo di battaglia prendendole la spalla e mettendomi di fronte a lei occhi negli occhi costringendola a respirare e a prendersi un attimo dal dal furore e dal caos che regna sovrano. La osservo e con tutte le deduzioni e le piccole interpretazioni che posso aver fatto io del volere degli dei la porto a guardare verso il cielo. Questa notte Nassia si svolge il tuo destino devi essere tu e solo tu a prendere in mano la tua vita gli dei ti porgono innanzi troppe strade per essere percorse con solo due gambe mortali ma tu puoi piegare questi sentieri affinché diventino solo uno osserva la luna in cielo qui Antonio ti chiedo dopo dimmi dimmi che luna c'è giusto per per patto quella che sei tu che stai guardando il cielo dimmi che luna è allora luna piena e via veloci vi sono filosofi delle distanti isole a est che chiamano Ecate e Artemide con lo stesso nome figlie dello stesso intero che è la luna piena Selene e loro sorella oggi brillano il cielo oggi puoi portare sulle spalle e sul capo l'onore di entrambe le divinità e prenderti il tuo trono tu puoi diventare signora prescelta della caccia e della magia comprendi quali sono i tuoi avversari comprendi chi va punito e ciò che va preservato e guida i tuoi uomini da lì la ragazza un singulto di rinvigorito orgoglio e alza il braccio con un urlo di battaglia da qui poi gli uomini vedendo persino che il comandante avversario si va a rintanare arretrando nel proprio palazzo si rinvigoriscono e partono d'assalto e durante il tuo discorso vedi quella figura ambigua che avevi davanti in parte una combattente sprezzante in preda all'ira in preda all'emotività dall'altra parte una giovane comunque devota al rispetto dell'anzianità degli dèi eccetera eccetera vedi questa figura ambigua di colpo farsi farsi una dove come dire la coscienza dell'essere comunque strumento e orgoglio degli dèi tempera l'impulsività dello spirito della vendetta e vedi come dire di colpo gli occhi prendere prendere peso vedi gli occhi di sua madre quando si è issata di nuovo in posizione di comando vedi in lei quella quell'ombra di potere di determinazione data dal come dire dal sangue di Artemide a questo punto segnati come vantaggio un di dieci yes e in più hai anche l'appoggio del i cacciatori di Nassia che sono un di otto let's go fuori camera ho passato colori 80 sono arrivato 87 quindi dopo il tiro ho speso 80 e ho portato il nome a di otto wow un altro dado di otto nel nome e finalmente ho segnato il primo punto fatto quindi ho segnato il dono e con questo ho portato su arte oratoria di otto giusto per fare il quadro completo ok state state macinando il vostro percorso letteralmente finché finché correte l'unica cosa è bellissimo così dimmi puoi tenere su il dado nome cioè il dado epitetto no il dado nome con la gloria con la gloria ah scusa gloria esattamente perché il di 12 è il nome degli dei e tu accumulando gloria ti avvicini sostanzialmente al nome degli dei fai 6 8 10 e 12 fa conto che i semi dei leggendari Ercole hanno il di 12 perché sono ascesi al rango divino sono diventate costellazioni ho tanta giusto la gloria dunque passo anche io il dado nuovo nome ok ottimo e siamo arrivati a come dire a scavallare bene 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 e adesso fase 2 della battaglia giusto per darvi una come dire una misura dei vari intenti perché per trasparenza o comunque per capirci Valentina il tuo approccio di rompere la maschera è fighissimo non l'ho come dire ignorato però fai conto che se vuoi rompere la maschera quindi se vuoi tagliare il legame tra lui e il cinghiale meccanicamente è una cosa che puoi fare sul prendere il controllo perché nel momento in cui prendi il controllo di regolamento definisci gli estremi della battaglia finale quindi a quel punto puoi veramente dire ok la battaglia finale è per scindere questo legame e uccidere la bestia e salvare lui non è una cosa che possiamo fare nella prima fase puoi farla nella seconda se riesci a prendere il controllo quindi io ho gettato le basi per come dire per portare avanti la storia e darvi e dare continuità oppure che ne so se Cosentino vuoi effettivamente farlo prontare riportarlo alla sua umanità adesso che che è perso e quindi tutte queste cose sostanzialmente le fate meccanicamente nel prendere il controllo a questo punto siamo in fase 2 quindi ci sono le minacce da cui voi dovete da cui voi dovete difendere dovete potete difendere però le minacce sostanzialmente che che incombono e poi c'è da scegliere se prendere il se prendere il controllo allora beh la prima la prima minaccia è quella ovvia e è che il cinghiale vada a confrontarsi con Nassia e compia la profezia di Artemide quindi Nassia muore in battaglia la seconda profezia è che il l'intero palazzo crollerà mietendo vittime in come dire in tutta la la popolazione che nel frattempo dopo anche il discorso di Cosentino sentendo sentendo la tensione dell'aria si era come dire avvicinata per capire anche solamente cosa stesse succedendo il la violenza dello scontro sarà tale da far crollare l'intero palazzo seppellendo i civili ma soprattutto togliendo il fulcro di potere dell'isola e quindi qualsiasi sia poi il il finale il come dire il sarà difficile ricostruire riunificare il il potere sull'isola queste sono le due minacce da cui difendere se volete potete tranquillamente ignorarle e puntare a prendere il controllo a voi la scelta Zephyro prima a parlare miseria o ultimo perché sei leader allora mi arrogo il diritto di parlare per ultimo perché sono incerto allora se volete io ce l'ho già chiaro se volete di tanto è veloce la mia se no vai prima tu richi uguale vai 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 allora Kaya vorrebbe prendere il controllo per fare due cose poi dimmi tu Antonio se si possono fare la prima mi basta semplicemente che prendi il controllo come dire il il fine lo discutiamo dopo diciamo nel caso allora io prendo il controllo ok Cosentino non vuole prendere il controllo quindi difenderà da una delle delle minacce ma non ha ancora deciso quali Armaius è puntatissimo a prendere il controllo lui è l'ira personificata questa blasfemia va ti vedo con gli occhi che quasi brillano non con il rosso come dire magico delle maschere ma sono il riflesso delle fiamme che ci sono in giro cioè potrebbe darsi che se si distrugge questo posto sia anche un po' opera di Armaius ok ne abbiamo due all'attacco io difendo la sia troppo di tutto quello che stiamo facendo è basato sul rimetterlei sul trono sarebbe imperdonabile fallire allora io prendo l'altra il palazzo potete anche difendere in due la stessa cosa non c'è nulla che lo vieta e giusto per dire l'ovvio potete tranquillamente anche ignorare una delle conseguenze e puntare a prendere il controllo in più di uno eh lo so però sono pesantucce cioè mi dispiacerebbe poi sarebbe dolce eh ci sta eh sono sono fatte per quello ok a questo punto partiamo dalle dalle conseguenze quindi Cosentino tu provi a evitare i danni collaterali sul sul palazzo e sulla e sulla popolazione sì eh quindi io Cosentino il aspetta aspetta scusa devo prima io tirare il mio pull e poi tu vedi come come rispondere in questo caso il tuo come dire il tuo sfidante è il cinghiale d'oro ok il cinghiale il cinghiale d'oro semplicemente travolgente dalle grandi zanne con la maschera d'oro e ha la capacità vincolato da catene cioè è immune all'arte oratoria perché è una un animale dell'ira tiro ha tutte le capacità che uno potrebbe non volere c'è un dato da capire che non è uscito sì perché non ha un valore ma si conta l'otto di travolgente ok quindi otto e cinque in realtà è un tredici guarda lo metto qui così poi tutto si sistema ok è pericoloso epico e sacro perché è la manifestazione di due divinità in realtà perché lui è il volere di Artemide ma la maschera è il volere di Ecate perché non ci facciamo perdere mancare nulla assolutamente no ok vado vai ti chiara cosa metti in campo cosentino il bell'impavido perché vado a testa bassa mi lancio in questa sfida con segno pathos e segno sia risolutezza e spirito che sangue e valore no maestria ragione ok è quello che voglio fare e sfruttando il legame con Zeus qui pesa non il favore di Lino il legame il legame tiriamo i dadi e poi in base ai dadi che vengono fuori potrebbe essere un e tu stai a cuccia vediamo cosa dicono i dadi no scarsissimo no hai veramente ho fatto 2-2 1-1-1 cioè è un tiro inconcepibile 2-2 1-1-1 avevi 2 di 8 1 di 12 2 di 6 e hai fatto 4 4 questo fa male dimmi cosa provi a fare nel momento in cui il cinghiale travolge te il muro del palazzo la colonna portante e mezzo quartiere adiacente allora il mio obiettivo era quello di sfruttare il favore di il legame con Zeus per comandare le truppe quindi gestire i cacciatori che erano presenti sulla scena o degli altri ribelli presenti sulla scena per gestire attaccare su più fronti il cinghiale circondarlo attaccarlo da più lati lanciare delle catene delle corde per tenerlo al terreno e via dicendo evidentemente il cinghiale è incontenibile guarda te la dico io nel momento in cui tu sei praticamente sul muro perimetrale del castello in cui stai tentando di organizzare le truppe eccetera semplicemente il cinghiale compare sfondando il muro alle tue spalle non avevi modo per sapere che sarebbe arrivato in quel momento da quella direzione e travolge te ti fa morire gli ordini in gola che stavi che stavi urlando agli uomini e a quel momento come dire folle dell'ira attraversa il palazzo più di una volta in cerca dei suoi nemici minandole la struttura e già solo lanciando blocchi di pietra che rotolano la città tra le urla della popolazione la prova era pericolosa epica e sacra il che vuol dire che sacro spendi un favore divino solo per entrare nella prova non so se l'hai già speso no non lo spendo ok epica spendi un favore divino per aver fallito e visto che non hai più favore divino mi pare segni fato ok ed è pericolosa quindi segni un punto di pathos ma sei in agonia quindi segni fato ok però scusate il favore divino andava tirato no? no no quello ah lo spendi e basta quello dell'epico lo spendi semplicemente per essere all'altezza di provare a tirare i dai è il come dire il costo di poter giocare la partita a questo punto Zephyro la minaccia contro contro di te è la stessa faccio un altro tiro perché sono prove separate tolgo il vincolato da catene ma lo sappiamo semplicemente perché sennò mi spalsa tutti i conti tiro e poi mi dici cosa fai ok Urcobo no 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 non prendere paura è un 13 c'era un più 13 che mi ha spaventato no 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 è un 13 comunque netto vuol dire che non posso ancora usare arte oratorio giusto? esattamente ok allora la butto su risolutezza e spirito ok io con maestria ragione risolutezza e spirito invocando il favore divino di Ares e l'aiuto volontario involontario secondo di che siano i suoi marchi ingegni oppure la sua presenza di Armaios durante una parte di questa fase punto a unire l'intero popolo nell'andare a palazzo ha appena fatto crollare non più a palazzo andare a prendere il regnante che ha appena ucciso metà degli abitanti del palazzo con la sua furia omicida e folle quindi ne faccio un gran discorso di di resistere e di unirsi sotto Nassia la la futura regina di questo di questo luogo nel farlo respingo tutti i suoi assalitori e tiro in ballo anche i cacciatori che la circondano non siamo praticamente parte attiva che sta andando a prendere il re per ammazzarlo ma ci stiamo muovendo come un'isola raggruppando persone man mano che avanziamo per le vie ok fate una massa sufficiente in modo che Nassia non sia mai esposta sostanzialmente vai vediamo cosa succede secondo 17 di seguito sono 13 punti di gloria e dimmi cosa succede quando il cinghiale feroce di rabbia mentre il castello comincia a crollare a tratti non crolla tutto perché ovviamente poi la scena finale ce la teniamo da qualche parte nella sala del trono direi ma le colonne via che rotolano dalle parti pezzi di pietra che boom vengono scagliati in cielo quando il cinghiale con la maschera e le zanne gli scaglia verso l'alto arriva in carica verso questa torma di gente che via via è riunito e davanti ci sei tu e Nassia e dammi il finale di questa scena nel momento in cui lui sta caricando per uccidere Nassia ma la via è particolarmente adatta alla scena il cinghiale sbuca in fondo a questa da uno degli incroci svoltando a destra e puntando immediatamente con le narici che si gonfiano verso Nassia lei è sopra alcune delle macerie dell'edificio appena crollato un appendice del palazzo e ormai si sono radunate tutte le persone attorno a lei un cordone di fidatissimi cacciatori con le torce in mano e tutto attorno la folla alcuni sono semplici cittadini che hanno preso un forcone un pentolame dei mattoni in mano altri sono soldati dello stesso della stessa città dello stesso re dello stesso palazzo che semplicemente si sono ritrovati all'improvviso a vedere la creatura governata dal proprio re che si freggia di essere re solo per il fatto di governare questa creatura caricare mura e persone come se non vi fosse differenza il momento in cui il cinghiale carica è un momento di realizzazione in cui tutti quanti si rendono conto che stanno probabilmente per morire ma quando appoggio la mano sulla spalla di Nassia lei ha una riconferma del suo momento di vigore è il suo momento e nell'osservare il cinghiale non si sposta di un singolo passo ma alza il braccio sinistro che regge una torcia alcuni fanno lo stesso e probabilmente il favore divino di Ares o forse un gioco del vento che da distante aiuta Zephyro rinvigoriscono tutte le fiamme in un singolo istante di Pathos e come già successo di fronte al buffo incendiato di Cerbero il cinghiale carica carica l'avversario non si sposta fa un altro metro l'avversario non si sposta all'ultimo scarta in un vicolo laterale schiantandosi e facendo crollare parte di una parete con un grugnito spettrale e acuto ma senza finire la sua carica grandioso epico bene e adesso allora andiamo andiamo avanti andiamo a prendere il controllo di di questa battaglia quindi per prendere il controllo adesso è una prova unica a cui partecipano a questo punto Kaya e Armaios per prendere il controllo dovete sfidare Karos l'usurpatore leale determinato con la maschera d'oro il rituale del vincolo e forte del cinghiale dorato ok vado io io Kaya dammi un attimo che dammi un attimo che tiro giusto perché dovete avere il numero prima di capire cosa buttare in campo io devo solo capire quanto fatto devo spendere eh mi sta anch'io perché non ho più niente vabbè però ci sta sulle battute finali comunque prima non ho capito ma si possono usare quindi più di due domini spendendo due di pathos penso di sì sai che dovrei controllare se è esplicitamente negato ma se non mi sbaglio la regola dice che spendendo un punto di pathos puoi aggiungere un dominio e non non mi sembra ci sia un divieto esplicito nell'iterare la manovra anche perché avrebbe cioè nel senso non ci vedo problemi perché il dice pooling di per sé va va inflazione quindi in realtà visto che di domini buoni ne hai uno aggiungere tanti di sei non ti cambia pool quindi in realtà sì lo puoi fare ma non è una manovra che ti che ti sballa tanto le robe secondo me ci sta dovrei controllare bene bene se è vietato ma non mi sembra ma io comunque ne ho sempre dati due cioè due nel senso totale sì sì uno più uno comunque dico non hai fatto quattordici adesso il mio è un quattordici ok per prendere il controllo di questa battaglia altrimenti il controllo sta a me vabbè io ci provo anche se appunto non ho più tanta roba comunque io Kaia leone con un cuore con sangue valore e risolutezza e spirito quindi spendendo anche fato e accetto la sfida Armaios io Armaios Forgiatore del Destino con il favore divino di Zeus il dominio di sangue valore e risolutezza e spirito con il legame di Cosentino Zefiro ed Efesto accetto la sfida sono è inutile dire che sono in agonia da un pezzo e sto marcando fato fino a che mi si è addirittura migliorato l'epiteto perché ho avuto ok ho pagato anche il il pathos che devo pagare per incaggiare questa sfida io ho già tirato però mi sono dimenticata di visto che sono con fato allo step di segnare un dono vabbè però posso farlo dopo no perché se segni un dono dovrei avanzare un dato epiteto a di 8 quindi in teoria anche il mio epiteto è a 8 invece ho tirato col di 6 ma non penso che cambi guarda hai tirato un 9 col di 10 quindi comunque i di 8 non potrebbero aiutarti a migliorare eh infatti infatti quindi ok fermi tutti un attimo è pericoloso e sacro quindi nel momento in cui entrate nella battaglia dovete spendere un pathos e spendere un favore divino ok però il problema allora è che io non posso neanche entrare perché allora puoi farlo puoi farlo converti tutte le spese che non hai in fato io spendo il mio favore il mio favore divino con afrodite ah quindi devo segnare tre fatti perché due sono solo per entrare visto che non ho il favore divino e uno è perché ho usato un dominio in più giusto allora facciamo le cose nell'ordine uno perché hai messo un dominio in più un legame un legame divino perché un favore divino perché è sacro che non hai e diventa un punto di fato hai fallito è pericoloso e quindi segna un punto di fato quindi sì in totale ma per tre motivi diversi pago un fatto in meno perché è pericoloso c'è da vedere se lo devo pagare ok esattamente ok Kaya dimmi cosa provi a fare e come come ti fai veramente molto male di fronte a tutto questo perché di come dire scali la tua la tua salita verso la verso la fine della tua storia in uno strappo molto veloce in questa prova marcando tre di fato ok eh sì quindi mi segna parecchio allora l'idea di Kaya era di strappare la maschera a Karus in maniera da separarlo dal dal cinghiale e poi uccidere il cinghiale questo era questo era il piano di Kaya qualcosa ovviamente è andato storto perché ha fallito quindi dimmi con l'approccio e poi te la te la rovino io ok ok allora Kaya prova a raggiungere Karus andandogli sempre più più vicino con la spada saltandogli proprio addosso e cercando di distruggere definitivamente la maschera questo era quello che fondamentalmente voleva fare e poi passare al cinghiale dimmi tu se non riesco neanche a far questo e quindi va già male qui oppure riesco in qualche modo però poi si rovina comunque la scena e poi mentre vado verso il cinghiale mi aspetto che il cinghiale in carica mi venga addosso e mi travolga potrebbe essere che mi travolga mentre sto cercando di strappare la maschera a Karus lasciamela lasciamela guarda è ancora più complicata di così fai la stessa cosa che hai fatto prima punti la spada verso la maschera e non è tanto la capacità di combattimento di Karus quanto la maschera a parte che adesso Karus si muove effettivamente come un animale non è più il combattente o il cacciatore che era prima adesso è un predatore ti fai avanti in un attacco prima provi a testare le sue difese ti fai avanti in un attacco che sai che dovrebbe arrivare sulla maschera questa volta è più forte più determinato di quello che hai fatto prima vedi la maschera con ancora il segno dove si è rinsaldata dove prima sei riuscita a inclinarla nel momento in cui vai a colpire vedi che la maschera questa volta reagisce prima la luce bianco-azzurra che hai visto prima di nuovo illumina la maschera da dentro la differenza è che questa volta non è una reazione ma è un attacco di colpo ti ritrovi in un altro luogo ti ritrovi persa in un'illusione sei in una grotta c'è dell'acqua che scorre senti un rumore di cascata da qualche parte è notte fuori c'è la luna vedi riflessi sull'acqua sei in un altro dove in un altro momento questa cosa dura un tempo indefinito come nei sogni sembra tantissimo nel contempo è un battito di ciglia nel momento in cui ti riprendi giri di scatto la testa all'autodestra e praticamente le zanne del cinghiale sono a una spanna dal tuo fianco e l'attimo dopo stai volando nel cielo perché ti è ti è mancata la coscienza non sai per quanto tempo nel fulcro della battaglia non sai neanche dove sia finito caros sai solo che adesso il cinghiale ti è venuto addosso e ti ha caricato boom ci sta figo armaios il tuo 15 invece riesce a battere il 14 di caros e quindi riesci a prendere il controllo della battaglia e quindi poi definirai sia il dominio sia la posta in palio narrami cosa fai e e va a buon fine allora essenzialmente armaios sì mentre kaya con lui carica questo questo palazzo questo tempio ci sono macerie dovunque c'è fuoco la luna fa fatica a splendere attraverso al fumo e dalla breccia appunto kaya va da una parte combatte con 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 caros mentre dall'altra parte c'è c'è cosentino che fa che fa arresting con le truppe d'oro e ci sono le frecce scoccate da zefiro che coprono l'avvanzata c'è c'è la principessa nassia che anche lei sta guidando i suoi la sua gente per reclamare il suo trono e armaios con una furia divina gli si accendono proprio gli occhi di fulmine a questo punto lui entra nel tempio nella sala del trono e carica la statua quella messa su di di ecate si manifesta grazie papà Efesto si manifesta una catena attorno alla statua e dall'altro lato della catena c'è armaios che tira in maniera molto furiosa armaios ha tipo due frecce addosso una in spalla e l'altra probabilmente in un fianco ma lui in tutto questo visto che comunque il pull dell'avversario è quello di caros immaginati caros che a un certo punto appunto come una belva al pari del cinghiale a un certo punto attraversa la sala correndo a volte appoggiandosi anche sulle mani e ti salta sulla schiena tipo mordendoti la spalla mordendoti la base del collo ma il come dire il tuo obiettivo le tue intenzioni sono da tutta altra parte non riesce a ormai Reus usa questo questo momentum girando la catena attorno al cinghiale perché ormai i caros e il cinghiale sono un'unica cosa ok e utilizza la furia combattiva del cinghiale per spodestare la statua e rimane 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 praticamente una rimane una base della statua solo i piedi un carino ti faccio una domanda estetica di che colore è la catena di che metallo è è nera è brillante è argente è ottone penso che è di un ferro affumicatissimo ma proprio un ferro che ha sopra della fuligine proprio fitta fitta che gli rimane addosso a qualsiasi cosa che questa catena si avvinghia ok ti immagino con la catena avvolta sugli avambracci possenti che ti segna di questo nero di fuligine e la statua si spezza cade a terra in mille frantumi e il come dire il potere di di Ecate su tutto questo teatro comincia a vacillare hai preso il controllo a questo punto puoi anzi devi darmi gli estremi della battaglia finale quindi qual è il destino se riuscite nell'ultimo nell'ultima sfida e anche ovviamente quindi il dominio dell'ultima sfida allora il dominio dell'ultima sfida sto guardando la scheda di Zefiro e maestri hai ragione essenzialmente Armaios l'unica cosa che vuole fare è spianare la strada lui è uno strumento e come tale si è applicato per quello che ha detto Zefiro di fare lui è il leader dunque è maestri hai ragione la ok ci qual è il come dire il il finale verso cui verso cui spingete posso delegare la definizione di questa cosa a Zefiro visto che è tuo diritto potete consultarvi tra giocatori per decidere quello che diciamo è l'ultima parola l'idea nostra è di mettere in trono il legittimo erede giusto? yes ma potete andare nei dettagli quindi cosa ne è delle maschere cosa ne è del cinghiale cosa ne è di carlos lascio lì i dettagli ma no guarda io ti dico quello che avevo in mente come leader poi tu interpreta se vuoi cambiare qualcosa serenamente ok l'obiettivo di Zefiro era che Nassia divenisse regina tenendo la maschera non so se utilizzandola però di sicuro non distruggendola ok e lasciando praticamente anche un culto aperto ad Ecate sull'isola unendo diciamo il culto di Artemide a quello di Ecate quindi venerando la luna in generale ok e che però punisse carlos con una giustizia a sua scelta che sia un imprigionamento per totanni eviterei l'uccisione semplicemente perché il cinghiale se no potrebbe soffrirne lascerei proprio che lei diventi il fulcro di tutto e che decide lei come unire l'isola o chi punire ok il cinghiale come te lo come ve lo te lo immagini nel senso resta nella sua funzione di preda sacra di una caccia rituale viene ucciso e scompare in questa battaglia e si farà come dire il il culto di Artemide verrà fatto con altra cacciagione che abbonda comunque caccia rituale caccia rituale ok quindi il cinghiale viene liberato e torna alla sua funzione pre ok quindi provo a riassumere togliete le maschere per quello che sono come oggetto magico e vincolante le tenete come simbolo magari costruenderci intorno a un tempio per comunque ridare a Ecate il comunque venerare rispettare il potere di Ecate ma a questo punto distinguendo ridividendo un po' le due cose convive il cinghiale e la caccia e vi è comunque un tempio che venera l'altro aspetto magico e mistico yes per quanto riguarda chi punire e chi no la decisione sta a Nassia una volta divenuta regina non facciamo nulla per fermare la sua giusta deletà nei confronti di Karos ok va bene perfetto e adesso che avete un sacco di buone intenzioni io carico una botta di 10 perché adesso c'è sia Karos che il cinghiale e vediamo cosa succede domanda sono riuscito a disarmare l'aspetto quello cos'è l'avversità del finco hai ragione allora forse non lo so chiedo si 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 hai ragione fammi rivalutare un attimo le cose allora tolgo da Karos le ale perché abbiamo detto che ormai l'abbiamo perso nell'ira travolgente del cinghiale quindi è quello l'aspetto che che vige resta Karos l'usurpatore con la maschera d'oro e vincolato dal rituale che è quello che praticamente lo rende adesso folle il cinghiale d'oro travolgente dalle grandi zanne e non considero il vincolato da catene che lo rende che lo rende immune dall'arte oratoria e la maschera d'oro lato cinghiale perché la consideriamo una volta sola ok tiro un 14 ok impegnativo ma raggiungibile Zephyro Dario ricordati che hai sia il vantaggio sia i cacciatori e posso rispendere anche i cacciatori li ho spesi nella prova precedente non sapevo se rimangono oppure se questo si nel senso che è un asset di fiction hai unito il popolo hai i cacciatori con te hai come dire rimesso insieme Nassia e sua madre quindi consolidando il potere che loro rappresentano quindi secondo me ci sta che ti sei costruito questo vantaggio stabile nel momento in cui è pertinente quindi ci sta perfetto io Zephyro dalle molte vie con maestria ragione ma anche con sangue valore e risolutezza e spirito sfruttando l'aiuto di Armaios il vantaggio ottenuto in questa battaglia i cacciatori di Nassia e la precisione di Artemide partecipo a questa prova ti chiedo solo è sacro e epico quindi dobbiamo flaggare un pato è ragionissimo colpa mia allora no sacro e pericoloso solamente se fallite hanno delle conseguenze ah ok è epico quindi mentre epico vuol dire che spendete una pathos per entrare nella prova ok Mario non tirare perché ti supporto ok lo so che hai chiamato in ballo il mio aiuto però ti supporto anche io dunque doppio aiuto porco voi non ho slot ragazzi avevamo detto come avevamo detto l'aiutante può decidere il suo il suo dominio o è il nome proprio e basta allora quando supportate date il dado del dominio ok quindi in questo caso è il maestria ragione e visto che è maestria ragione e nella maestria ragione ci sono le arti come dire anche le arti pratiche me la vedo che il tutto sta nello riuscire a spezzare le catene delle maschere in modo che alla fine cadano e dopo da lì come dire tutto poi comincerà a risolversi ma è un lavoro di come dire di astuzia di di puntualità di precisione per riuscire a far saltare quelle catene non è un approccio diretto anche perché il cinghiale non tentate con sangue e valore di sconfiggere il cinghiale ma è come dire sì sotterfugio precisione e anche proprio come dire maestria nel sapere come far saltare delle catene in una condizione del genere quindi è questo un po' il punto su cui poi andiamo a narrare c'è una tensione adesso se adesso io canno il tiro con tutto questo aiuto praticamente il defiro si spara però possiamo comunque vincere perché partecipo anch'io no? sì sì assolutamente sì certo c'è una prova standard ok ok no no è una prova standard che partecipate qui partecipate tutti cioè partecipa chi vuole aiutando segna un legame io ma segna un legame anche a Zephyr no solo tu solo tu perché sei tu che stai spendendo valuta in pratica ah no giusto solo le domande che le domande sì esatto Kaya vai io Kaya leone con un cuore con sangue e valore maestria e ragione e risolutezza e spirito ho già segnato il fatto ho già segnato il dono perché ne vincolata mamma mia che in giù che state andando il mio PG si sta bruciando è bellissimo è bellissimo e accetto la sfida e comunque ci tengo a precisare che Kaya la prova che hai fallito prima penso sia una delle prime prove che fallisci dall'inizio del gioco quasi però secondo me sai che vabbè lo dico dopo adesso non voglio per tempo però ci stava che fallissi no vabbè insomma dava un po' di movimento mi è piaciuta anche a me la scena bene un 15 di Kaya e quindi la porti a casa contro 14 la difficoltà e adesso vediamo il pull di Zephyr cosa combina ma è il terzo 17 di 6 grande 17 ma soprattutto perché 17 comunque è un numero magico è una misticità e siamo qui a parlare di Ekates cosa cosa vogliamo dirci ragazzi e tra l'altro ce la faccio proprio con il mio approccio perché è proprio Zephyro e dalle molte vie che fanno 8 e 8 8 e 8 e poi hai un favore divino un favore divino che aiuta il giusto ok e adesso però la narrazione ci conviene forse farla condivisa perché Kaya tu fai l'asset esatto io faccio l'asset solo per dare poi a Zephyro quindi potrei per esempio aiutarlo visto che ho usato anche sangue e valore io come dominio potrei aiutarlo con la mia forza diciamo nelle mansioni più dove effettivamente serve la forza per tenere a Bada questo cinghiale poi lasciare a lui effettivamente Kaya diciamo che mi piace l'idea dimmi te questa battaglia che prosegue a un certo punto c'è proprio la scena in cui tu il cinghiale ti carica e prendi le due zanne e lui ti spinge e tu lo tieni lì e tipo con le punte dei piedi e con i talloni alzati lui spinge e tu cominci a indietreggiare scavando sulle macerie e sulla pietra ma praticamente in lotta con questa bestia tentando di piantargli il muso per terra guadagnando quella manciata di secondi che serve a Zephyro per sganciare la maschera perfetto sì sì ci sta ci sta va bene va bene me lo immagino il mio PG davanti a sto cinghiale per niente impaurita è praticamente una montagna rispetto a te è presente la formica che porta in giro la briciola che è 20 volte il suo peso ecco cioè è quella cosa lì e tu c'è da inquadrare sempre il fatto che tu sei un umano non hai sangue divino però un umano che ci crede tanto tanto ci crede durissimo ed è tutta forza e sudore dannazione vai Zephyro io mi immagino questo lunghissimo e destenuante montaggio tra le parti semi crollate del palazzo con una ragnatela di uomini che si muove e Zephyro che supporta e viene supportato da Nassia come da tutti i compagni nel guidare le forze della città a riprendersi la propria città è che Karos e il cinghiale sono delle forze semplicemente ormai sovrumane guidate dalla magia di Ekater guidate da una volontà del tutto distorta e bestiale quindi è tutto un piano al millimetro fatto di resistenza qualche alzata di scudi per deviare una carica e una partita a scacchi contro un cinghiale che butta giù i pezzi con le zanne al posto che provare a giocare il momento finale in cui Kaya riesce a limitare per un attimo il cinghiale è lo stesso in cui Zephyro sta ingaggiando insieme a Darmaios e agli altri e a Cosentino Karos perché se Kaya basta fermare da solo il cinghiale noi in tre dobbiamo affrontare l'uomo e in realtà tutto è parte del suo piano e nel momento in cui Zephyro scivola all'indietro alzando le braccia mentre cade al suolo come in una sorta di segno di resa Karos gli punta contro l'arma urlando adesso basta e nel momento in cui alza la lama la chiusura della partita a scacchi giunge all'ultima mossa mentre dal soffitto crollato per sua stessa colpa del palazzo sopra la sua testa Nassia cala con una accetta dando un colpo netto sulla testa che non va a spezzare il cranio ma a rompere la maschera e a farla cadere a terra Zefiro mi piace ma c'è un'altra maschera da far saltare quindi secondo me semplicemente nel momento in cui una delle due maschere cade senza dover agire fisicamente sull'altra perché tutto questo è magia anche la maschera del cinghiale si rompe le sue catene e Kaya tu vedi questo enorme maschera d'oro scivolare sul fianco e il cinghiale di colpo perdere quella furia come dire quella furia forsennata che gli era in qualche modo istillata da da una magia lontana scuote la testa e come farebbe un qualsiasi animale selvatico trovandosi confuso semplicemente scappa e scompare nelle foreste rimanete soli in questo palazzo distrutto nell'attonito silenzio che segue la battaglia incredulo una battaglia vinta con la polvere di tutto ciò che è crollato che ancora è viva nell'aria che vi si incolla sulla pelle nel sudore vi vi entra nel nel respiro in qualche modo tagliandovelo però in tutto questo vedete che i fumi dei fuochi le nuvole del cielo si spostano e la luce della luna piena di nuovo illumina questo palazzo riporta riporta la luce riporta un bagliore di serenità l'immagine su cui si chiude questa notte è Nassia che alla fine della battaglia si ritrova con sua madre Isidora riprendendosi finalmente mano con le mano e riguardandosi di nuovo con uno sguardo di amore e riconoscenza l'una dell'altra dove tutto questo era iniziato quindi nella sala del trono in cui tutta questa tragedia aveva mosso i suoi primi passi chiuso il destino dell'isola lo narriamo con con l'esodo e anche questa volta l'operazione è riuscita e il paziente è morto non è per niente vero ma voi continuate a giudicare queste isole con mentalità moderna in realtà era tutto benissimo l'unica cosa che a me dispiace è che non ho ucciso il maledetto cinghiale porca miseria però sai io ho cercato di interpretare il volere degli dei al massimo ho cercato di tenere il piede in più scarpe possibile ma infatti va benissimo così Kaya va stanata quindi è giusto è giusto il approccio bene 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 certo che quest'isola vi ha vi ha provato è tardino direi che la chiudiamo qui esodo e e viaggio passerei alla prossima volta giusto per non per non trovarsi a fare le cose a inerzia da qui alla prossima mezz'ora yes certo città città ok bene chiudiamo allora questa giocata abbiamo salvato avete salvato più o meno tutti avete nuovamente distrutto mezza città ma le città si ricostruiscono mentre le grandi storie come dire c'è solo un'occasione per scriverle e dovete coglierla quindi direi che è andata bene così mi sento di commentare brevemente che dalla prima isola a questa ne abbiamo fatta di strada anche noi come giocatori mi pare che come dire sistema narrazione e come dire escalation sia sia andata bene anche se ce la siamo presa ci siamo presi i nostri tempi per fare quest'isola ma mi sono sembrati comunque ben densi di avvenimenti piacevoli e quindi niente alla prossima volta con esodo viaggio e poi la nostra nuova e ultima isola buonanotte a tutti buonanotte buonanotte grazie buonanotte gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su youtube potete rimanere in contatto con noi su facebook instagram e alla mail gentediruolo gmail.com per commentare criticare chiedere o suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare